E adesso abbiamo un mezzo un po' più giovane di quelli che abbiamo visto fino adesso. Sì, diciamo che questo è un mezzo che ha partecipato alla battaglia di El Alamein e è sempre una 508 coloniale della divisione Ariete. La divisione Ariete era una divisione corazzata italiana che praticamente è stata annientata durante le battaglie di El Alamein e proprio si sono immolati praticamente tutti, anche in tutti i nostri carri, dopo che diedero del filo da torcere alle truppe inglesi. Questa macchina andammo per il sessantesimo dell'anniversario della battaglia giù col club istorica e grazie all'allora presidente Ciampi ci aiutò tantissimo per la parte logistica. E con questi mezzi siamo stati praticamente insieme alle nostre truppe dell'epoca che erano giù per questa cerimonia, cerimonia internazionale dove eravamo insieme agli inglesi, alle truppe coloniali che erano con l'esercito italiano, francesi, a tutte le delegazioni diciamo diplomatiche. E' stato veramente bello perché abbiamo ripercorso quelle piste, quelle zone dove i nostri soldati sono stati e dove abbiamo il nostro sacrario, il sacrario di El Alamein, bellissimo dal punto di vista di posizione geografica e anche di architettura, disegnato da Paolo Cacciadominioni che è stato un grande architetto e anche una persona che ha speso tanti anni della sua vita per ricercare i soldati, i corpi rimasti nel deserto e radunarli diciamo in questo cimitero. Ha ragione, ha vissuto due vite e questa era diciamo come avevamo detto prima quando abbiamo visto quell'altra, era la nostra macchina di collegamento così più semplice e anche abbastanza con doti tecniche buone insomma. E quindi le battaglie di El Alamein sono state importantissime perché hanno poi concluso la nostra avventura africana ancorché fossimo arrivati vicino al canale di Suez. Quindi lì la storia andò in quel modo lì e quindi da lì cominciò poi la ritirata. Ma effettivamente il particolare di questa macchina è che col presidente e con tanti amici del club, del club storica, abbiamo vissuto questa quasi settimana di giri perché da Alessandria abbiamo guidato fino a El Alamein, Marsa Matru, tutti questi posti e ci siamo anche potuti inoltrare un pochettino nel deserto per quello che era possibile perché sempre gli avvenimenti sociopolitici dell'Egitto non sono sempre così tranquilli. E ancora questa è una macchina funzionante che a me piace molto anche usare insomma. Grazie.